Sono Giovanna Listo, sono l'office manager di questo studio, mi occupo di coordinare l'attività dei miei colleghi, dei collaboratori, dei dipendenti e della struttura in senso generale. Il ruolo del commercialista è cambiato, non deve più occuparsi delle attività quelle classiche di adempimenti fiscali, contabilità e solite attività che rimangono fine a se stessi soltanto per adempiere a un obbligo previsto dalla norma. Deve adesso invece interagire con l'imprenditore, farlo crescere, pianificare l'attività dell'imprenditore, deve saperlo proiettare nell'attività dell'impresa a livello di pianificazione e controllo della sua gestione. Tutto questo ce lo possiamo permettere sempre di più, con tempi più ampi negli ultimi anni, proprio in relazione anche alla fatturazione elettronica, all'informatizzazione che è stata sempre più importante negli ultimi anni e tecnologicamente il nostro studio è molto evoluto da questo punto di vista, operando sempre in cloud con tutte le attività sia di natura contabile che di adempimenti fiscali, ma anche di pianificazione e controllo. Quindi riusciamo ad affianchiare il cliente coinvolgendolo anche tecnologicamente, perché può interagire con lo studio in ogni momento della sua vita con tutta la sua documentazione e esaminarla e confrontarsi costantemente con i partner dello studio e i collaboratori. Siamo vicini all'imprenditore nelle decisioni più delicate, cerchiamo di affiancarlo sempre. In questo delicato momento abbiamo pensato di essere molto più vicini alle imprese, soprattutto ai piccoli e stiamo per aprire proprio in questi giorni il nostro hub 1 che ha la funzione di seguire proprio lo small business. Grazie per la visione!